Vi presento la ricerca che ho realizzato con sei paesi europei per il Daphne, il terzo programma Daphne, progetto europeo. Il titolo è Empower e infatti l'oggetto è l'empowerment di donne vittime di violenza domestica. Abbiamo coinvolto molte strutture all'interno di tutti i paesi, ricordo solo i paesi fondamentali, l'Italia che con l'Università di Padova è stata leader, abbiamo appena concluso il progetto, l'Albania, l'Austria, la Bulgaria, il Portogallo e la Romania. All'interno di queste strutture hanno collaborato sia in alcuni casi le università ma spesso associazioni impegnate nel controllo, nel superamento, nel contrasto alla violenza di genere e in particolare alla violenza domestica. Come è nato Empower? Empower nasce come esito di un precedente progetto che avevo realizzato per il Ministero dell'Università in Italia per le donne vittime di tratta, tratta in particolare proveniente dai paesi dell'Est Europa. Ho cercato di capire, era il 2004, come mai queste donne fossero così vulnerabili e fosse così facile prostituirle e portarle sulle strade italiane, donne magari anche laureate, donne che avevano dei desideri. Sono andate in Albania, in Romania, ho cercato di capire con loro che cosa avesse fatto sì, che si fidassero così tanto di questi uomini e che poi le prostituivano sulla strada. La cosa che avevo capito è che alla base di alcuni territori europei dell'Est Europa, ciò che funzionava era ancora un codice che precedeva la legge costituzionale, quindi un codice di uso comune, il codice d'onore. Il codice d'onore pare essere un modo di intendersi tra le persone che precede il patto legale, il patto sociale e costituzionale. Ha parlato dei origini del progetto e come questo progetto si fonda in un progetto che si faceva anteriormente nel 2004 con le donne che stavano tratate e che quando arrivano a Italia facendo il lavoro sexual, provenienti specialmente di Albania e Romania. E la sua questione di investigazione in questa epoca era relacionata con il porqué di tanta vulnerabilità. Lo che ho trovato quando si fu in Albania è che, dal suo punto di vista, il codice che funzionava e che regia ancora tra le relazioni sociali era più il codice d'onore che non il codice d'onore più legale e constitucional. E che per questa credenza al codice d'onore, le donne anche in questa situazione di vulnerabilità. L'idea è che con il codice d'onore, che si gioca tutto sui ruoli della donna e la donna che lo paga, che cosa accade? Che esiste una sostanziale connivenza tra uomini e donne. I ruoli sono molto determinati e in alcuni territori dove vige il codice d'onore non importa che la Costituzione, la legge, definisca la parità tra differenze di generi. Non importa. Ciò che conta è che l'uomo, portatore dell'onore e portatore della regola che deve essere rispettata, fa sì che la donna abbia un ruolo subordinato e che la donna si fidi totalmente dell'uomo. Questo è il codice d'onore. Ma che cosa accade? La cosa più drammatica è che dove c'è il codice d'onore, le donne educano le figlie a rispettare il codice d'onore e educano a loro volta gli uomini a rispettare il codice d'onore. Si chiamano società matrifocali. La madre è una figura cruciale che determina in qualche modo di generazione in generazione il mantenersi della definizione di un ruolo di dominazione, onore dell'uomo e un ruolo di subordinazione della donna, che deve però tramandare di generazione in generazione questo modello relazionale che si chiama familistico, perché è centrato sull'educazione impartita attraverso la socializzazione primaria nella famiglia del codice d'onore da parte della madre. Sì, basicamente queste società sono società basate in una logica familiarista in cui la socializzazione primaria induce a la educazione al codice d'onore e le trasmissioni di questi ruoli estereotipati di genere che si trasmissono di madre a figli e di madre a figli e che possono anche essere più potenti di quello che sono le leggi. E anche, nonostante, potrebbe avere leggi paritari, questo codice è così interiorezato che si trasmissà di generazione in generazione. È come se fosse un codice alla base di alcuni territori. L'Italia è un paese fortemente familista, probabilmente qualcuno dice che anche in Spagna esiste una certa logica familista e appunto anche questi territori del Mediterraneo, l'Albania sicuramente, e verso l'est Europa, laddove nascono le mafie forti, il familismo è alla base e alla base c'è questo modello di educazione familistica che produce modelli di subordinazione femminile rispetto alla dominazione maschile. Questa idea è riconosciuta anche in campo sociologico da Bourdieu, che è un teorico del capitale sociale. A che cosa serve la subordinazione della donna? serve a garantire quel capitale relazionale che non costa niente economicamente e che permette di mantenere la società come funzionante. E chi deve pagare forte questo mantenimento della società deve essere appunto una figura di subordinazione che sottoscrive la logica di mantenimento della società a poco costo, quale è appunto la donna. Il problema è che la donna non ne è consapevole in queste società familiistiche, in queste società in cui vive appunto il codice d'onore. Il codice d'onore sta ancora attivo in territori come l'Italia, probabilmente anche in Spagna, in molti siti come l'Albania che ha citato, in molti siti del Oriente Medio. e, dal suo punto di vista, sta presente in molti dei luoghi in cui abbiamo queste mafiei tan forti. Relazione questo con la teoria di Bordeaux, che giustifica, che explica, ma che giustifica, come la subordinazione è fondamentale per il mantenimento del capital social. La subordinazione delle donne permette un capital social a coste zero. E il problema è che la naturalizzazione di questo codice d'onore fa che le donne non sono consciente di... o, molte volte, hanno difficoltà di riconoscere la subordinazione a cui stanno subito. Per fare questo progetto di presa di coscienza delle donne in questi territori e scommettendo che forse il problema esiste un po' in tutta Europa, ma anche nel resto del mondo, però in particolare si sono resi disponibili questi paesi a partecipare al progetto Empower per Daphne, abbiamo deciso di adottare un approccio femminista socio-costruzionista e quindi l'approccio dei gender studies facendo riferimento in particolare alla teoria ecologica di Bronfenbrenner, che è fortemente utilizzata dagli studi femministi negli interventi di emancipazione e empowering delle donne. Cioè questo modello, il modello di Bronfenbrenner, adottato dalla prospettiva femminista, insegna questo. Non si può lavorare solo sulla donna che subisce violenza, non si può lavorare solo sulla donna abusata e subordinata, bisogna lavorare sulla donna, sulla famiglia, sul mesosistema che è la comunità all'interno della quale la donna vive e poi nell'ambiente più ampio che è la società. Cioè se vogliamo cambiare la condizione delle vittime di violenza, le donne vittime di violenza, non possiamo agire solo sulla donna. Questo significa che non è la donna portatrice di una patologia, la vittima non è malata, non si dovrà fare una psicoterapia sulla donna, ma bisognerà sicuramente permettere alla donna di rendersi conto di quali sono le difficoltà e intanto agire sulla famiglia per cambiarla, e intanto agire sulla comunità, e intanto agire sulla società e la cultura. Il proieto di investigazione surge, per lo tanto, con la finalità di aiutare la toma di concienza a questo tipo di subordinazione, e i enfochi teori che si basa sono la storia feminista e la visione socio-construccionista. In particolare, si recoge la proposta della storia ecològica, che si utilizza per la emancipazione e l'empoderamento delle donne che sostiene, soprattutto che in caso di violenza di gênero, non si può fare un lavoro simplemente con le donne che stanno soffrendo la situazione di violenza, sino si tiene che lavorare contemporaneamente con la famiglia, con il contesto più immediato e con la società più in generale. Per lo tanto, è un enfoque che è despatologizzatore delle donne, e che non parte della idea di lavorare psicoterapeuticamente con le donne, disculpe, se mi ha trabato, nonostante, riconosce la importanza del lavoro con le donne per empoderarsi e per riconoscere e, mentre, un lavoro molto più social e sistémico. Questo tipo di intervento è garantito dal counselling ecologico che viene applicato in tutti i territori in cui si prendono in carico donne di vittime di violenza a livello europeo ed è un counselling che viene praticato dai social workers. Questo è proprio il termine che viene generalmente utilizzato in tutta Europa e in tutti i paesi che mettono a disposizione questo tipo di servizio. La logica sottostante che permette di applicare il modello ecologico attraverso il counselling vede anche come punto di forza il linguaggio come possibilità di risolvere i problemi. Cioè, vale a dire, come dice Mary Gergen, a partire dalla prospettiva socio-costruzionista, per prendere coscienza e cambiare la società è necessario cambiare il linguaggio e i processi di comunicazione. quindi ciò che deve essere fatto è co-costruire insieme la presa di coscienza che esiste un carnefice e che esiste una vittima. La vittima deve sapere che ha diritto di essere libera almeno quanto il carnefice e che il carnefice non ha il diritto di sottomettere qualcuno e violentare qualcuno. ma questa cosa comincia con il parlarne, comincia con il costruire insieme un nuovo linguaggio affinché uomini, donne e tutto ciò che ha a che fare con le differenze di genere possano esprimersi e esprimere la propria volontà di costruire una società comune. Il asesoramento ecològico in tutta Europa è sviluppato basicamente per i lavoratori sociali che si basano anche in lo che Mary Gergen definiria o subrayaria il lavoro in la questione del linguaggio. È fondamentale reconstruire e pensare il linguaggio per riconoscere le relazioni di potere che si stanno dando tra i uomini e le donne in queste situazioni in le situazioni di violenza di genere e cuestionare queste relazioni di potere inquietate. Attraverso il cambiamento del linguaggio dunque possiamo intervenire con i social worker a vari livelli con le donne con le famiglie con la comunità e con il sistema sociale in genere modificando la cultura. Questo significa lavorare a livello di rete di relazioni quindi creare situazioni nella società affinché la donna possa emanciparsi dalla famiglia all'interno di una realtà sociale che la accolga. Questo ovviamente come dice Zimbardo che è l'altro grande referente della psicologia sociale che ci orienta rispetto al tipo di intervento sociale è il cronosistema cioè vale a dire non possiamo pretendere che esista già tutto subito dobbiamo sapere che il processo linguistico è un processo complesso e che per modificare le reti di relazioni sociale dal microsistema al macrosistema bisogna stabilire che esiste un tempo di lavoro comune difficile e che coinvolga tutti gli attori sociali Partendo dal lavoro di Zimbardo, che è un altro psicologo, ci explica di che questo processo non è mai immediato, ma necessita, ha una grande complessità e necessita un lavoro sul linguaggio di molto tempo. E questo è quello che definisce come cronosistema. Arriviamo adesso alla seconda parte metodologica dell'intervento, ed è quello psicodrammatico. L'intervento psicodrammatico prende origine da un grande psicoterapeuta, che però innanzitutto era un grande psicologo sociale, Jacob Moreno, che nei tempi in cui nasceva e trionfava la psicoanalisi, aveva il coraggio di dire a Freud, va bene, tu curi le persone su un lettino e persone che ti possono pagare, quindi gente che sta bene, io vado a curare chi sta male per strada. La cosa che faceva Moreno era il teatro in strada e chi invitava, invitava prostitute, homeless, persone senza casa, faceva narrare loro la loro storia per capire e permettere a loro di capire che cosa li aveva portati a perdere qualsiasi progetto esistenziale, a non sapere che fare delle proprie giornate e del proprio futuro. Jacob Moreno metteva in scena, come in un teatro, queste vite e permetteva a loro di prendere coscienza della loro sconfitta esistenziale affinché, diceva Moreno, loro potessero riacquistare quella spontaneità, questa è la parola chiave, quella capacità di diventare creativi attraverso la spontaneità per non ripetere all'infinito la sconfitta quotidiana all'interno della quale erano caduti. Il secondo enfoce metodologico che hanno utilizzato nel progetto tiene che vero con il enfoce psicodramatico, del psicodrama, e non si explica come questo enfoce è stato proposto per Moreno, che criticava fortemente a Freud il fatto che le sue teoriche servivano per curare le persone con grandi potenzialità economiche. Inoltre, lui voleva aiutare persone che non si potrebbero permettere terapia estancata e per questo iniziò a lavorare nelle calli, con il teatro e con le subiettività marginalizzate, chiedendo a loro mesi che contasse la loro storia, se riconosciera a través della narrazione delle loro storie, se riconosciera e fossero capace di una toma di concienza delle loro esperienze vitali e volvieran a adquirire la espontaneità necessaria per adquirire capacità di creatività e capacità di trovare soluzioni differenti a la loro vita. Una delle caratteristiche più importanti dello psicodramma è che chi narra la propria vita la interpreta, poi chiama i personaggi che hanno determinato la sconfitta nella propria vita e interagisce con loro sul palco. Dopodiché con il role plane diventa quei personaggi e poi si riguarda al di fuori. Quindi la vera novità rispetto alle tecniche teatrali classiche e la vera novità rispetto al role plane è che il narrante è se stesso ma anche tutti i suoi carnefici. Impara a capire come hanno ragionato coloro che gli hanno fatto male perché in quella scena teatrale diventa loro. Questa tecnica permette un desplazamento del sujeto al redor di tutto lo che sono i roles delle persone importanti in sua vita. Inizia a rappresentarsi a si stesso, a narrare la sua storia per poi interpretarla, a riconoscere quali sono i soggetti clavi che hanno intervenito in sua vita e ponendosi nel papel di questi soggetti che le hanno disfavoreci apprende a entenderlo, a entender lo che hanno fatto e per questo a entender di altra maniera come poter salire da questo círculo di opresione. La tecnica noi di Empower l'abbiamo utilizzata non tanto per permetter alle donne vittime di violenza domestica di provare a capire che cosa passa per la mente del loro violentatore del marito che le picchia, del loro carnefice. No, non volevamo capire, mettere a disposizione questo a queste donne ma che cosa avessero assunto dalla loro educazione primaria rispetto a quella passività che le rende e le rendeva vittime davanti a un uomo violento cioè incapaci di reagire vale a dire come ti ha insegnato tua madre a gestire le relazioni di dominazione maschile ovviamente la risposta è stata che l'insegnamento che queste donne avevano ricevuto era di obbedienza al marito In il lavoro che hanno realizzato con il psicodrama dentro del progetto Empower non hanno posato le donne donne in fronte a situazioni di violenza in si mesmas non le hanno pedito di ponerse nel lugar di suo maltrattatore sino in cambio hanno lavorato sobre le condizioni che hanno posibilitato questa existenza sobre i processi di interiorizzazione della dependenza del opresor e lavorando sui processi educativi da quando erano piccoli e ponendosi nel lugar e entendendo la interiorizzazione di questa attitud subordinata le tecniche che abbiamo usato sono la sedia vuota ovvero la persona si siede e diventa per esempio la madre si siede laddove non c'è niente la c'è la madre ed è la madre che parla poi torna a se stessa un altro è la tecnica dello specchio guardarsi e raccontarsi che cosa vede dopodiché c'è lo psicodramma con teatro classico quindi chiama in causa tutti i personaggi che hanno determinato la sconfitta esistenziale del trovarsi incapaci di reagire alla violenza il playback theater che è composto da un coro che dà voce alle emozioni da dietro proprio come il coro tragico c'è un gruppo di persone che danno parola all'emozione o anche suoni o anche versi all'emozione che non riesce a trovare un modo di essere espresso dal soggetto narrante un'altra tecnica che però abbiamo usato solo parzialmente che sicuramente conoscete è quella del teatro dell'oppresso tutte tecniche che fanno riferimento l'ultima è di Boao però Boao si è fortemente informato è formato alla scuola moreniana bene, le tecniche le potete leggere in la silla vacia le donne, per esempio, interpretavano in questa silla a sua madre in la tecnica del espello si narrava a si messe e si escuchava a si messe in il psicodrama classico entrano tutti i protagonisti in gioco la meno conosciata è la del playback che è la tecnica più relacionata con il teatro griego dove c'è un coro per dietro e questo coro rappresentava tutto quello che erano le emocioni le emocioni non expresate per la persona a través di soni a través di espressioni di diversi tipi e le emocioni potrebbero essere e finalmente il teatro dell'oprimito che credo sia il più conosciuto perfetto allora gli obiettivi per la per lo psicodramma erano il primo definire quali sono i fattori che producono il processo e riproducono il processo di vittimizzazione della donna il secondo ovviamente quello di definire le strategie migliori per migliorare la presa di coscienza da parte della donna rispetto al proprio essere collusiva e non reattiva rispetto alla violenza patita ovviamente intervenire sul linguaggio permettendo alle donne di capire quali sono gli stereotipi che agiscono nel costituire l'inconscio che determina la sua predisposizione a essere vittima di violenza e ovviamente lavorare per superare le rappresentazioni di ruoli stereotipati i quali sono appunto quello del carnefice che va sopportato e della vittima che bisogna essere adesso entriamo nella terza fase quindi abbiamo stabilito due momenti il primo momento che è quello dell'intervento del counseling ecologico dei social worker che lavorano sulla rete sociale oltre che sulla donna vittima di violenza e poi gli interventi specifici psicodrammatici con la donna perché cresca la sua coscienza rispetto al perché si trova in quella situazione a un certo punto però dovevamo dimostrare che i nostri metodi erano efficaci per ottenere gli obiettivi che avevamo stabilito cioè l'empowering di queste donne e la presa di coscienza da parte di queste donne che si può cambiare nella vita e che non è necessario restare sempre vittime abbiamo utilizzato la metodologia del real world research method cioè vale a dire bisogna aspettarsi che ci siano dei cambiamenti dobbiamo misurare il cambiamento in un tempo uno il primo momento e nel tempo finale dimostrare che è successo qualcosa ma dobbiamo anche essere consapevoli che siccome abbiamo a che fare con la realtà del mondo la complessità è tanta e quindi dobbiamo preventivare una certa alea cioè vale a dire non dobbiamo credere che abbiamo a che fare con soggetti di laboratorio e che dunque le misurazioni saranno perfette diciamo che dopo aver fatto queste due parti del lavoro che sono il asesoramento con i lavoratori sociali e le intervenzioni psicodinamiche come regerì il progetto europeo si hanno dedicato a lo che è la evaluazione e per evaluare se i cambiamenti produciti con queste intervenzioni realmente hanno conseguito empoderare le donne hanno deciso utilizzare la strategia della investigazione nel mondo reale diciamo che tiene in cuenta che i cambiamenti del tempo 1 al tempo 2 produciti non si possono medire da una maniera obiettiva come in altri contexti si no tiene che tenere in cuenta la complejità della vita reale per questo motivo abbiamo utilizzato due paradigmi di ricerca uno è la metodologia cross-culturale e l'altra è la metodologia trans-culturale la metodologia cross-culturale dice ci sono degli elementi identici che possiamo misurare tra tutti gli esseri umani sia che questi vivano in Cina sia che questi vivano in Italia quindi possiamo misurare significativamente questi tratti questi costrutti ovunque ci troviamo nel mondo funzionerà un intervento che dimostra che tra il tempo 1 e il tempo 2 rispetto ad uno specifico costrutto è cambiato qualcosa c'è un valore differente dopo invece la prospettiva trans-culturale dice no non è vero tu credi di dimostrare e misurare qualcosa tu puoi solo descrivere delle situazioni e devi descriverle molto bene quindi la ricerca deve essere descrittiva perché il linguaggio del cinese è totalmente diverso dal linguaggio dell'italiano dello spagnolo che cosa vuol dire che le parole usate dai cinesi costruiscono una società totalmente altra indessicale rispetto a quella italiana e a quella spagnola per noi è un grande problema perché avevamo a che fare con sei paesi europei per cui abbiamo detto seguiamo anche la metodologia trans-culturale che è sostanzialmente una metodologia di descrizione qualitativa di testi che hanno utilizzato sono due paradigmi 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 oposti però hanno deciso utilizzarli ambos per avere una validazione ancora forte della sua investigazione da un punto di vista ha partito da una visione cross-cultural che considera che hai elementi constructi che sono comparabili più allà delle differenze culturali o sociali e che per lo tanto nelle diverse nazioni è possibile medire cambios e transformazioni del mismo tipo hanno accompagnato questo tipo di studio questo tipo di paradigma con la visione più trans-cultural che in cambio parte della idea che la comparazione è molto fictica che in realtà anche stiamo utilizzando il mismo linguaggio il significato che tiene questo linguaggio in diverse culture può essere completamente differente e che per lo tanto c'è solo una illusione di comparabilità e per lo tanto da questo enfoque non si può analizzare o medire di una maniera clara o obiettiva si può simplemente descrivere descrivere di una maniera contextualizzata le differenze grazie grazie allora ecco dunque le due modalità che abbiamo usato per l'analisi transculturale abbiamo usato un'analisi del linguaggio ed erano i report delle sedute dei social workers con le donne nel lavoro di integrazione sociale di queste donne che cambiavano la loro progettualità esistenziale un'altra metodologia che abbiamo usato transculturale è l'atomo familiare cioè queste donne raccontavano il tipo di relazione che avevano e che avevano avuto in passato con tutte le figure familiari significative questa è la transculturale qualitativa la metodologia cross culturale invece dice no 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 guarda sei una psicologa allora devi dimostrare che hai cambiato qualcosa all'interno se no tutte chiacchiere allora ci siamo dati una mossa e ci siamo chiesti quali sono i costrutti rispetto ai quali noi vogliamo dimostrare che ha funzionato l'intervento dovevamo trovare dei costrutti facilmente misurabili che andassero bene per tutti e sei paesi è stato un lavoro difficilissimo dovevamo somministrare i test prima e dovevamo somministrare i test alla fine pensa 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 lavora discuti discuti alla fine siamo arrivati veramente a trovare degli strumenti molto interessanti le tecniche le tecniche che hanno utilizzato per applicare queste due perspectiva di investigazione per lo che tiene che vero con la metodologia transcultural ha analizzato i informi della seduzione di le tecniche che potrebbero medire costrutti significativi e significativi per i sei paesi ora non si esplicerà quali sono questi strumenti che hanno incontrato però sicuramente dice che il processo ha sido molto complicato e molto duro però che sta molto contenta con i risultati ora vediamo che sono uno strumento molto utilizzato quando si ha a che fare con soggetti che abbiano subito violenza è il Back Depression Inventory BDI che misura il livello di depressione della vittima di violenza ce ne sono molti altri ma questo è molto utilizzato perché è facile non è molto difficile è facilmente comprensibile anche da persone di media cultura questo BDI dovevamo utilizzarlo attenzione avremmo voluto utilizzarlo in tutti e sei paesi ma è stato impossibile per cui lo abbiamo utilizzato solo in Austria e in Italia perché non siamo stati autorizzati a validarlo negli altri quattro paesi purtroppo questo strumento è in mano la person americana e la person americana ha tutti i diritti per decidere chi può usarlo chi può non usarlo. noi l'abbiamo utilizzato in Italia e in Austria per validare gli strumenti vale a dire vedere utilizzandolo come perno perché è molto valido ha una grande letteratura che dimostra la solidità di questo strumento lo abbiamo utilizzato per vedere se andasse bene utilizzare anche altri due strumenti che adesso vi descrivo. lo strumento lo strumento che hanno utilizzato o che hanno voluto utilizzare ha sido il test di Beck per la depresione in quanto è uno dei testi più riconosciuti come valdo che ha fatto il problema del copyright la persona detiene il copyright di questo test e le ha permitito applicarlo in Austria e in Italia per lo tanto lo che hanno fatto ha sido utilizzare il strumento come strumento di validazione dei altri strumenti che hanno utilizzato che hanno che hanno una validazione meno forte perché già sapete che l'obiettività in psicologia è qualcosa che è estremamente ripetito gli altri due strumenti che abbiamo usato dunque sono il Sayer e il Coro M il Sayer è stato inventato da Moreno e rinnovato da Kieper in Austria che cosa misura? i livelli di spontaneità abbiamo detto all'inizio che per Moreno quando una persona impara ad essere spontanea è più creativa e è più capace di cambiare le situazioni è più capace di dire no basta non ne posso più vado via e poi succeda quello che succeda troverò un'altra soluzione quindi la spontaneità secondo Moreno è importante e abbiamo detto certo che vogliamo vedere se queste donne sono più spontanee ha già qualche validazione ma non tantissime il Sayer il secondo strumento invece è già molto più utilizzato ed è il Coro M che è molto utilizzato in Gran Bretagna da tutti i servizi sanitari e serve per vedere il livello di benessere dei pazienti cioè che cosa misurano? il Coro M misura il livello di fatica stanchezza dolore sofferenza dei pazienti più i valori decrescono più vuol dire che il paziente sta bene allora in Austria e in Italia abbiamo visto come si muovessero il Sayer e il Coro M rispetto al BDI per validare l'interezza dello strumento e abbiamo scoperto che più aumentava il BDI quindi il livello di depressione più diminuiva il Sayer quindi la persona era meno spontanea e più aumentava il Coro M ovvero il livello di malessere della persona quindi abbiamo detto bene bingo usiamo Sayer e Coro M per i quali abbiamo ottenuto l'autorizzazione da parte degli autori con tutti e sei paesi come diciamo il Coro sta molto utilizzato in Gran Bretagna in tutti i servizi sanitario e lo che miro è il livello di benestar delle persone hanno conseguito dimostrare in Italia e in Austria dove si hanno applicato i tre instrumenti che quando aumentava la depresione diminuiva la espontaneità e aumentava i livelli di malestar per lo tanto i tre instrumenti erano capace di detectare un cambio nella direzione e per lo tanto decidono in i paesi che non potevano applicare il back depression inventories applicare solo i due altri strumenti in quanto sia valido per aver sido coerente con i risultati del test ufficialmente validato Abbiamo poi fatto una validazione del Sayer e Coro M in tutti i sei paesi su 250 soggetti sani per ogni paese per avere dei parametri di riferimento rispetto alle donne qual era l'ipotesi dobbiamo vedere se tra tempo 1 e tempo 2 il tempo 2 si avvicina di più alla validazione della media delle persone che non hanno problemi va bene per vedere se la differenza è significativa quindi abbiamo misurato per ogni paese e complessivamente l'affidabilità interna la validità convergente la validità discriminante e l'analisi fattoriale discriminatoria quindi abbiamo fatto tutte le operazioni statistiche per vedere se questi strumenti innanzitutto valessero per la popolazione sana altra validazione che hanno fatto gli strumenti ha sido applicare questi strumenti a persone che teoricamente stavano bene vale 250 persone e la ipotesi che avevano è che se gli strumenti realmente funzionavano dopo della esperienza psicodramattica le donne iban a tenere un risultato a questi strumenti molto parecchio a quello che avevano le persone che si sentivano bene e hanno applicato tutta questa serie di analisi estadistici per dimostrare che realmente avevano questa coherenza erano 250 per ogni paese perché in ogni paese 250 sugetti e in effetti creato questo parametro abbiamo potuto verificare che c'è stato un aumento della spontaneità in tutte le donne un abbassamento del livello di malessere in tutte le donne nel tempo 2 che si sono dunque guadagnate dei punteggi molto prossimi molto più prossimi rispetto al tempo 1 hai valori parametri che avevamo trovato con la validazione sulla popolazione di 250 soggetti per ogni paese sui testi e questa è una parte delicata che abbiamo analizzato in effetti è emerso e abbiamo utilizzato modalità informatizzate di analisi testuale cioè non abbiamo usato soltanto carta e matita ma abbiamo cercato il più possibile di utilizzare delle tecniche replicabili anche da parte di altri ricercatori una volta data l'indicazione di che cosa si è analizzato e come è possibile replicare lo stesso processo e dunque arrivare allo stesso tipo di descrizione del dato qualitativo cioè dei test dei dati testuali ciò che abbiamo raggiunto è questo importante risultato che le donne hanno dichiarato di essersi rese conto di poter modificare la loro progettualità esistenziale e che avevano senza rendersi conto assunto dai modelli femminili familiari l'idea che si è una buona cosa essere subordinati al marito o al compagno una delle cose più dolorose che sono emerse è che le donne le madri stesse erano violente con le figlie o ambivalenti cioè molto spesso per educare la donna all'obbedienza la madre a sua volta è violenta nei confronti della figlia e questo è un problema che socialmente dobbiamo imparare a gestire fare in modo che l'insegnamento alla subordinazione in qualche misura venga interrotto nel processo di socializzazione secondaria per quanto riguarda la analisi dei texti la analisi qualitativa dicono che la hanno realizzato a través del supporto di plataformi informatici che permette la sua replicabilità di analisi e che i risultati che hanno ottenuto è che le donne si hanno dato capire di modificare la sua progettualità vital e anche dei valori che avevano assumendo nel processo di educazione dice che la parte più dolorosa è che molte donne si hanno capito che nel processo di educazione le donne avevano exercito tal vez roles violenti o ambivalenti con la finalità di farle assumire questo role subordinato quello che dunque diciamo abbiamo capito più chiaramente attraverso questo progetto è che proprio la società può cambiare le storie delle diverse famiglie e individuali cercando il più possibile di abbattere tutti quegli stereotipi che legittimano inconsapevolmente e dobbiamo sapere che è un processo inconsapevole le donne a pretendere che altre donne siano subordinate agli uomini in questo modo è possibile interrompere quella catena millenaria che fa sì che di generazione in generazione le donne insegnino alle donne ad essere subordinate agli uomini gli uomini poi hanno la loro grandissima responsabilità ma noi volevamo lavorare su questa catena e possiamo dire che ci siamo riuscite con queste due tecniche e che si può replicare questo tipo di modello magari in forma più estesa sapendo altresì che si può lavorare sì con le donne vittime di violenza ma con la stessa metodologia con tutte le donne in età evolutiva e in ogni fase della vita è tan contenta che si può dimostrare che la società può realmente cambiare i processi familiari e individuali però che per farlo lo che abbiamo che fare è romper i pregiudizi e i stereotipi che acabiamo interiorizzando dice che c'è una 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 especie di círculo vicioso che non siamo capace di romper in cui le trasmissioni dei roles di subordinazione si trasmittano incluso per linea femenina e che si ben considera che ovviamente i hombres hanno le loro responsabilità nei processi di violenza il obiettivo in questo caso era lavorare su questo particolare e la trasmissione intergenerazione che normalmente viene delegata in mano delle donne come si scoglie la muestra delle 250 persone ose le donne stavano in un centro come si definisce sì allora 250 soggetti sono soggetti voglio dire della vita normale quotidiana cioè non soggetti che vanno nei centri antiviolenza perché serve per fare il parametro di base la validazione di base dello strumento quindi per parametro indichiamo quei valori che sono comuni tra tanta gente e che pensiamo siano valori di persone che stanno bene che non vanno a chiedere specificamente aiuto perché magari hanno sofferto per qualche patologia quindi soggetti sani che stanno bene che non soffrono che non chiedono aiuto ci danno dei valori che sono dei parametri di riferimento allora noi teniamo questi parametri di riferimento del SAIR del CROEM fermi per tutti i paesi e tutti i paesi sommati insieme 250 soggetti per ogni paese dai 150 ai 250 e poi misuriamo gli esiti del tempo 1 tempo 2 delle donne e vediamo se nel tempo 2 si avvicinano si dice significativamente di più ai valori della popolazione comune e questo è stato le donne invece che hanno chiesto e hanno fatto parte del progetto erano donne che chiedevano aiuto ai centri che abbiamo indicato antiviolenza all'interno dei quali già lavoravano i social workers con il metodo ecologico di Bronfenbrenner costruzione di rete e all'interno dei quali poi sono stati inseriti gli psicodrammatisti mi preme qua ricordare che è stato essenziale l'intervento dell'affepto che è l'associazione delle scuole di psicodramma europee e che aiuta appunto nella promozione di questi progetti europei per l'utilizzo dello psicodramma había due mostesque prima una mostra buildente ambientulare defin hunter con 250 soggete che hanno richosto sc שמ� statements molto in azione dai successesi la altra mostra che quelle monosa ogni cosa specifici dove si stava applicando il metodo ecològico e che con l'intervento del progetto iniziarono anche un processo a través del psicodrama. La violenza domestica attraversa tutte le classi sociali, quindi è distribuita a livello sociale in tutti i tipi di famiglia, tra l'altro, quindi non solo in un certo tipo di famiglia o in certe condizioni. Per quanto riguarda la nostra condizione socio-economica, era medio-bassa in tutti i paesi, cioè vale a dire era parzialmente collegata a limitazioni socio-culturali, in particolare nell'est Europa. Ma perché la situazione dell'est Europa è ancora complessa, è ancora difficile. Vale a dire in quei territori rimane ancora molto lavoro da fare e è risultato anche abbastanza evidente rispetto alla costruzione sociale delle reti di sostegno e molto si sta lavorando per riuscire a farlo. Direi però che anche negli altri paesi si è presentata la stessa caratteristica. Noi abbiamo interpretato questo fatto in questo modo, che molto probabilmente sono utenti di centri antiviolenza dove lavorano social workers e volontari, specialmente persone che non possono permettersi un altro tipo di aiuto sociale. Quindi non è che la violenza domestica che abbiamo rilevato noi sia tutta la violenza domestica di tutte le classi sociali. È quella che ha a che fare con il tipo di servizio con il quale noi abbiamo collaborato. Dal punto di vista metodologico, che è il mio punto fisso, mi è sembrato molto interessante il lavoro che avete fatto per utilizzare strumenti che comunque non sono quelli che si usano classicamente nell'analisi della violenza di genere, che sono molto stigmatizzanti, ma strumenti che tengono in conto il benessere percepito o la spontaneità. Altri aspetti che sono molto più, dal mio punto di vista, coerenti con la visione femminista. Questa parte mi è sembrata estremamente interessante. Io chissà dove ho più dubbi, dal punto di vista sempre femminista, è nel pericolo dell'insistere nella trasmissione culturale da parte delle donne della violenza. In quanto credo che nel contesto familiare è vero che le donne sono quelle che ufficialmente sono incaricate di trasmettere valori culturali. Però è anche vero che la forma in cui li trasmettono è molte volte anche influenzata da un potere maschile che gli obbliga a trasmettere in una determinata maniera. Per cui c'è il pericolo, dal mio punto di vista, che insistere in questo aspetto femminile non ridondi ancora nella colpabilizzazione delle donne in questo processo. Empower assume la pro-woman line, che è a priori la donna a ragione, non è colpevole dei ruoli che determinano la sua vittimizzazione. Perché è una vittima anche la madre. Quindi, se adottiamo la pro-woman line, significa che la madre è vittima non carnefice rispetto alla figlia. È una vittima che esercita la subordinazione, vittimizza insegnando la subordinazione alla figlia. La cosa altresì importante da rilevare è che il rischio di victim blaming, cioè, vale a dire, colpevolizzare la vittima del proprio essere vittima, noi abbiamo cercato il più possibile di elaborarla permettendo alle donne sicuramente di sviluppare una spontaneità di ruolo, inventarsi un altro ruolo diverso da quello appreso in famiglia, ma nello stesso tempo di pacificarsi con la condizione vittimaria della donna madre, in quanto tante volte e spesso a sua volta vittima del padre, a sua volta vittima di un contesto sociale. È uno sforzo grande che viene richiesto alla vittima figlia, d'accordo, perché deve salvare se stessa e deve salvare al proprio interno almeno la rappresentazione della madre. E questo è quello che siamo riuscite a fare, cioè non colpevolizzare la madre del fatto di essere a sua volta vittima di una cultura. Però, rispetto alla società, e lo dico da femminista convinta, della terza onda, sono per la terza onda, probabilmente più acquisiremo noi donne quel potere che ci spetta, perché siamo al 2% del potere internazionale, se 100% è il potere totale in danari, in posti di ruolo, eccetera, eccetera, è in mano al 2% soltanto alle donne, quindi ne abbiamo di potere da prendere ancora. Quindi, se dobbiamo arrivare a quel famoso 50%, e se già si sono attivati questi processi, è probabile che storicamente questo tipo di modello, quello che sto indicando adesso, cioè della madre che insegna alla figlia ad essere vittima, ad essere subordinata, diventi obsoleto, cioè non abbia più senso. Però lo dobbiamo superare storicamente, lo dobbiamo superare storicamente, permettendo alle donne di guadagnare, modificare quella società che permetterà alle donne di essere a tal punto paritarie, da insegnare alle figlie ad essere paritarie, a pretendere relazioni paritarie. Quindi lo colloco storicamente il problema. Diciamo che le aspettano per un enfoce non culpabilizzatore di le donne, e credo che le loro soggetti sono interessanti in le donne con una perspectiva femminista. per lo tanto, il suo punto di partita è riconoscere che la madre, si ben sta attuando a volte come reproductora e castigadora, è a sua volta subjugata a questa situazione di relazioni sociali. Per questo, nel lavoro che hanno fatto con le donne che stavano facendo i psicodrami, le hanno pedito un doble lavoro personal, molto forte, non solo di elaborare le loro esperienze di educazione opresora, ma anche di riconoscere che la persona che più fortemente la stava, in qualche modo, le stava ogni giorno ricordando che tenia che respetare i risultati di gênero, riconoscere che questa persona non lo faccia con una attitud o con una volontà opresora, sino lo faccia perché a sua volta stava reproduzendo i valori che aveva interiorizzato. E, per lo tanto, hanno pedito un lavoro doble a le donne di salvare come minimo la visione o la immagine che hanno di loro di loro. Dice che lo hanno conseguito in la maggioranza dei casi e che crede che questo segue sendo importante perché il modello di trasmissione social, dei rolesi sociali, è storicamente molto forte che può essere che in un futuro consigiamo superarlo, però che oggi in un giorno solo il 2% del potere mondiale sta in mano delle donne e che fino a che non consigiamo realmente una equità e fino a che le donne non vivono in sua propria pelle questa equità non potranno che transmitire a loro questi valori o modeli e valori più equitativi e per questo è necessario ancora di suo punto di vista questo lavoro específicamente enfocato a le donne per questo attraggio Grazie.